Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo presso un negozio Buffetti di Rivarolo Canavese e dopo la pubblicità intervisteremo la proprietaria Silvia Ogivi. Hai aperto questo negozio? Allora io ho aperto nel 1997, però eravamo in via Gallopetta e ci sono tre spediti qua, in corso primo 70, solo sette anni fa, in questa location è solo di sette anni. C'è un articolo che si trova solo da voi? Se sì, quale? Nei prodotti Buffetti si trovano solo nei prodotti Buffetti, quelli a marchio, con tutti i blocchi che riguardano le fatture. Le fatture delle riviste sono tutte varie. Poi il Campomarcio, la nostra esclusiva, scolgo il confezionario e non si trova in altri negozi. Ah, no, no! Invece altri articoli, come la vite, classica, prodotto di cartole via, si trova un po' da tutto. Allora, tre pregi e tre difetti di questo lavoro? I pregi sono che possono essere sotto contatto col pubblico, questo è il pregio. Poi, insomma, siamo in un locale bello, pulito, no? In cui posso magari lavorare in aziende, in stampaggio, che possono fattere i bimini. Insomma, questi sono i pregi. I difetti sono dell'orario, perché l'orario è una sette mese, è un po' lungo, è un po' pesante. Fai d'accordo con il titolario dipendente degli altri negozi? Sì, molto. Sì, sì, sì. Una cosa che vorresti ancora parlare, per esempio, una curiosità? La necessità della mia attività. Vi ringraziamo per questa intervista e dallo staff Radio Lace Factory è tutto.